Abbiamo fatto una discreta partita affrontando una squadra giovane, organizzata, che corre e sapevamo che in difesa loro avrebbero fatto questa 5-1 bassa, infatti l'avevamo preparata per attaccare gli esterni tra 1 e 2 sfruttando il blocco del pivot. L'abbiamo fatto a tratti bene, difensivamente non siamo andati malissimo, l'unica nota dolente sono stati sicuramente i troppi diri sbagliati ancora una volta da isemetri, dobbiamo lavorare su questo, lo sappiamo, ma devo dire che sono molto soddisfatto in generale della gara che abbiamo fatto oggi.